mi sono arrecato al santuario di europa uno dei più importanti delle prealpi biellesi un grosso santuario e ho visitato nel suo saccello la statua della madonna nera la madonna di europa appunto e ho visto che piangeva si piangeva allora mi sono chiesto perché la madonna piange poi rivedendo quello che era stato pubblicato sui giornali e dichiarato proprio dal rettore del santuario di europa ho capito il perché e allora mi sono chiesto è giusto e sono tornato col pensiero al vangelo disse il signore ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere ero nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato carcerato e siete venuti a trovarmi ero forestiero e mi avete ospitato risposero i discepoli ma signore noi non ti abbiamo mai fatto queste cose e il signore rispose in verità in verità vi dico ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me con questi pensieri ho lasciato il santuario ho lasciato le lacrime delle madonna e forse anche quelle di gesù mi sono chiesto ma noi siamo cristiani